Essere un pirata è sempre stato il mio sogno da che ho memoria. E finalmente lo sto trasformando in realtà. Sono Monkey D. Luffy e diventerò il re dei pirati. Il vento sulla schiena. L'aria salata del mare. Mi serve solo una ciurma fidata. Mi chiamano il demone cacciatore di pirati. Uccido quelli come te per vivere. Ma è tutto quello che sei. Sei un grande combattente. Direi che saremmo una bella squadra insieme. Allora, perché hai deciso di diventare una ladra? Si fa di tutto per sopravvivere. Questa che vedi qui vale molto più dell'oro. Questa è una mappa per la rotta maggiore. Credo che la mia ciurma serva una navigatrice. Hai una mira notevole. Ho preso da mio padre. È un pirata famoso. Ho visto cosa hai fatto lì dentro. Hai difeso i tuoi amici. Sei il tipo di persona di cui ho bisogno nella mia ciurma. Usof, rispondi al cuoco! Da quanto fai il cameriere? Non faccio il cameriere, ma il cuoco. Il migliore del mare orientale. Se un uomo ha fame, gli do da mangiare. Dovresti unirti alla mia ciurma. Non sei solo un bravo cuoco. Sai combattere. È davvero bravo a combattere. Ultima occasione. Arrenditi. È impossibile che lo faccia. Gam Gam Rocket!